Ed ecco a voi la nuova sede operativa dei GIF. Col cavolo! Sarebbe bello avere la sede operativa dei GIF in un castello, Marco un dirondirondello, però non è così. Va bene, ciao a tutti, sono la mole del grave dei GIF, volevamo ringraziarvi tantissimo perché ci state visualizzando, non ce l'aspettavamo sinceramente, quindi vuol dire che ci state aspettando. Stiamo facendo di tutto per voi, tipo per esempio, non so se vedete che anche il ciuffo si sta leggermente trasformando dal viola al blu, pian pianino, la metamorfosi è iniziata. Adesso stiamo lavorando per voi, stiamo basando il sito internet, stiamo mandando un sacco di richieste per nuove indagini, quindi GIF. Grazie a tutti.